Buongiorno 26 luglio 2024 ancora qui per stare insieme un'ora e trenta per parlare di cronaca attualità di cultura Puglia e Basilicata al centro dei nostri interessi per leggere i quotidiani freschi di stampa con Giovanni Scandiffio buongiorno Giovanni buongiorno Francesco buongiorno a tutte voi a tutti voi e cominciamo subito con un piccolo riassunto delle cose più importanti della giornata appena trascorsa l'incidente nel quale domenica pomeriggio ha perso la vita il 21enne Giovanni Vittore nel quartiere Iapigia di Bari il presunto responsabile si trova in carcere con l'accusa di omicidio stradale aggravato oggi in programma l'udienza di convalida del fermo sentiamo ha effettuato una manovra pericolosa a bordo del suo scooter causando la caduta e come conseguenza la morte del 21enne Giovanni Vittore lungo via Gentile nel quartiere Iapigia di Bari una volta notato il ragazzo a terra in una pozza di sangue non si è fermato e non ha prestato soccorso perché spaventato ha quindi continuato a girare per la città rientrando poi nella sua casa di San Nicandro e questa la ricostruzione del terribile incidente avvenuto domenica pomeriggio adesso il 71enne Francesco Milella in carcere con l'accusa di omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso in attesa dell'udienza di convalida del fermo davanti al jeep del tribunale di Bari Rossanna De Cristofaro l'uomo è stato rintracciato grazie alle immagini di video sorveglianza della zona che hanno registrato la scena oltre ad alcuni dettagli come gli abiti indossati da Milella il modello della sua moto il casco e l'orologio con il cinturino arancione ritrovato sul luogo dell'incidente il 71enne è stato quindi raggiunto a casa dagli agenti della polizia locale coordinati dalla procura di Bari qui davanti a sua moglie ha ammesso di aver avuto un incidente negando di essere a conoscenza della terribile fine del ragazzo ha inoltre spiegato di essere fuggito perché impaurito dopo aver visto il 21enne per terra insanguinato anche l'analisi dello scooter ha confermato la ricostruzione sono infatti stati riscontrati segni dell'incidente come ammaccature sul fianco destro e la rottura parziale di alcune parti della carenatura Milella già conosciuto alle forze dell'ordine per essere destinatario di un avviso orale per reati contro la persona e alla sicurezza pubblica è stato portato in stato di fermo al comando della polizia locale dove ha nuovamente ammesso le sue responsabilità adesso si trova nel carcere di Bari al momento del fermo il PM Marcello Quercia non ha disposto la sua liberazione perché sussisterebbe il pericolo di fuga fuggito insomma perché impaurito dopo aver visto il 21enne per terra insanguinato Giovanni è un comportamento sostanzialmente umano ma assolutamente non accettabile nel senso che in quel caso la cosa da fare subito era quello di prestare soccorso perché forse si sarebbe potuto salvare appunto e poi vediamo che Repubblica Bari apre proprio su questo ucciso dal pirata della strada scoperti i danni sullo scooter la foto del 71enne che poi è fuggito lasciando morire il giovane il prete ai funerari che dice siamo inorriditi e andiamo a vedere ecco qui siamo sul Repubblica Bari Puglia ecco il pirata stradale che ha ucciso Giovanni danni al suo scooter con cui è fuggito siamo inorriditi e spaventati dice appunto il prete non sei stata una cisterna screpolata di questo vuoto che non riempie che è l'indifferenza mio figlio era solare dice il padre fantastico, ottimista, positivo e volenteroso Giovanni ci deve dare speranza eravamo fieri di lui ringrazio le forze dell'ordine c'è anche la foto appunto del 71enne che ha provocato l'incidente mortale e poi è purtroppo fuggito dico purtroppo perché forse si sarebbe potuto salvare colui che è stata la vittima l'ultimo saluto a Giovanni Vittore vittima dell'indifferenza malvagia le parole del parroco nel funerale del 21enne deceduto domenica in via Gentile nella chiesa di San Marco qua anche un cestino con i messaggi lasciati in suo ricordo voglio ricordarvi che tra l'altro le forze dell'ordine hanno risolto il caso individuando il presunto colpevole in 52 ore Don Felice Iagobellis appunto tornando alla cerimonia funebre battiamoci il petto per quella umanità che se ne frega che non si sa fermare quando l'altro ha bisogno e l'indagato ha confessato scrive la gazzetta per paura sono fuggito il 71enne finito in carcere per aver causato il sinistro non sapevo che fosse morto gli agenti della polizia locale hanno identificato mezzo e conducente grazie alle immagini estrapolate da nove telecamere di video sorveglianza Francesco Milella ha confermato il nome del presunto colpevole ha confermato la propria responsabilità sia nel causare lo scontro che nell'aver omesso di prestare soccorso alla vittima insomma non è assolutamente una bella situazione sotto il profilo anche umano in particolare non è una cosa che fa piacere insomma dover raccontarvi anche di questi momenti si riesce a capire la debolezza che è quella di darsi alla fuga tipicamente umana anche questa però lì bisogna essere capaci di affrontare la realtà di assumersi le responsabilità sin dall'inizio perché questo può voler dire salvare la vita di una persona tra l'altro incolpevole e sotto questo aspetto però c'è anche un discorso che ha a che fare con la SP 112 lo ricordiamo i cittadini chiedono l'intervento del prefetto perché è una strada pericolosa mentre c'è stato un frontale a San Nicandro è morto un 53enne di Palo lo schianto è successo proprio sulla provinciale la strada provinciale per Cassano insomma un argomento davvero triste particolare che ha a che fare da un lato con l'incapacità a poter come dire prestare subito i soccorsi a questa persona dall'altro ha a che fare con l'indifferenza rispetto a certe situazioni ma c'è anche un problema di sicurezza sulla viabilità stradale che bisogna assolutamente risolvere e sotto il profilo delle infrastrutture ma anche sotto il profilo dei comportamenti di automobilisti e motociclisti e passiamo dalla cronaca quella che arriva dalle strade quella cittadina andiamo alla cronaca politica perché continua in Puglia la raccolta firme per arrivare al referendum abrogativo contro l'autonomia differenziata in tal senso a Bari ieri si è tenuta un'iniziativa promossa dalla Vila per sollecitare i pugliesi a firmare contro una legge definita Spacca Italia ieri abbiamo visto per quanto riguarda sempre lo stesso argomento che il Partito Democratico aveva dimenticato di attemperare ad alcuni passaggi per cui questo bloccava il Consiglio regionale pugliese intanto invece proseguono le varie raccolte firme allora sentiamo questo servizio l'inno di Mameli risuona in Puglia per ricordare l'importanza di un'Italia unita sia nella forma che nella sostanza in occasione dell'inizio della raccolta firme nella regione Puglia per il referendum abrogativo contro la legge Calderoli promossa da UIL e da altre associazioni a Bari è andata in scena l'iniziativa della UILA per ribadire uno secco alla legge sull'autonomia differenziata definita come Spacca Italia abbiamo aderito immediatamente a questo movimento che sta nasciando nel nostro paese promosso anche dalla nostra confederazione per salvare l'Italia così come lo slogan del comitato referendario per l'abrogazione di una legge che riteniamo assolutamente ingiusta anacronistica miope rispetto alle sfide che il paese deve affrontare oltre che eticamente e socialmente ingiusta perché mina le fondamenta dei nostri principi costituzionali continueremo e sosterremo questa campagna referendaria per raccogliere le firme ma soprattutto per convincere cittadini e cittadine del nostro paese a far sì che non solo si firmi ma in primavera vadano a votare e sostengano convintamente questo referendum La Puglia è dunque la quinta regione progressista con Emilia Romagna Sardegna Campania e Toscana ad aver dato il via all'iter necessario per richiedere il referendum contro la legge voluta fortemente dalla Lega un obiettivo più che raggiungibile per il governatore Michele Emiliano che punta deciso al raggiungimento del quorum di 500.000 firme utile per dare il via al referendum abrogativo E' importantissimo raccogliere le firme per coinvolgere le persone e prepararsi poi al referendum nel modo più adeguato quindi tutto il sindacato italiano è coinvolto quando addirittura si cerca da parte di qualcuno di dire che è un referendum poco sentito cioè che non raggiungerà il quorum a parte che ci divertiamo il giorno in cui si andrà a votare Dopo l'approvazione della proposta di legge Calderola si smuove l'Italia soprattutto l'Italia del Sud per raccogliere le firme e per promuovere il referendum abrogativo affinché questa legge che non piace alle regioni del Sud perché vedrebbe la stessa mortificata si smuove su tutto il territorio del Sud Italia allora Giovanni continua questo movimento di ribellione chiamiamolo così delle regioni meridionali diciamo che ribellione voglio dire è previsto dalla Costituzione quindi io non capisco perché non debba essere o che il governo di centrodestra dica è un atteggiamento contro è normale è previsto dalla Costituzione quindi va o seguiato perché o 5 regioni a statuto ordinario o 500.000 firme dei cittadini si può promuovere un referendum abrogativo il concetto invece che è giusto di ribellione non è tanto sull'istituto del referendum abrogativo ma sui contenuti della legge dell'autonomia differenziata e lì si riesce a comprendere che ci sono problemi serissimi che potrebbero creare una volta applicata questo tipo applicato questo tipo di provvedimento sempre se riescono tra l'altro a mettere a punto dove trovare i denari per i LEP per i livelli elementari di prestazioni che ancora non si riesce a capire dove dovranno trovarli c'è un discorso particolare e che questa legge finisce per allargare un solco che già esiste e che esiste dal 1860 in poi quindi dall'unità d'Italia tra le regioni del nord e le regioni del sud allargarlo ancora una volta al detrimento delle regioni del sud e a favore delle regioni del nord tutto questo non è possibile pensare che possa passare così velocemente questo è il mio parere e lo continuo a mantenere proprio perché siamo nell'ambito e nell'ottica del dettato costituzionale insomma quindi mi sembra proprio che una sana opposizione su questo argomento si possa fare ne vale ribellione nel senso etimologico ritornare a belli ribello questo non lo sapevo che era una questione legata all'estetica beh per evidire voglio rimanere belli diciamo così eh forse rimanere vabbè per qualche governatore proprio questa bellezza non la vedo però voglio dire siamo a cinque regioni insomma ora se su questo discorso intanto per quel che riguarda la diciamo l'organizzazione della della opposizione e del referendum abrogativo in particolare da cinque regioni in Puglia c'è stato un problema rispetto all'interpretazione e alle cose votate nella regione Puglia due giorni fa e infatti il consiglio rivoterà la delibera sul referendum anti autonomia ma Emiliano dice Emiliano governatore dice nessun pasticcio per il governatore basterà l'integrazione non dover andare a rivotare mettere a punto un sistema di integrazione legislativa rispetto appunto alla delibera stessa e quindi sarà possibile fare tutto ciò la Will intanto raccoglie le firme ma non solo la Will perché le firme sono raccolte anche in altre regioni da molti sindacati il PD si sta organizzando o meglio è già partito con l'organizzazione con un tour per la raccolta delle firme contro l'autonomia differenziata qual è il dato nuovo oggi Francesco che è interessante non è tanto il fatto di mettere di porre rimedio alla delibera già fatta è quello che il quotidiano nazionale dice autonomia alto là di occhiuto il presidente della regione Calabria stoppa i colleghi governatori di maggioranza del nord il governo non firmi nessuna intesa prima della definizione dei lepte io l'avevo detto ma è una cosa che si sa è nota e va superato il criterio della spesa storica l'imbarazzo di Fratelli d'Italia intanto parte la campagna referendaria lo riprende questo argomento anche la gazzetta dove dice occhiuto si smarca il governatore invitato alla festa dell'unità pugliese chiede una moratoria in proposito il politico cosentino sottolinea come sono certo che i calabresi voterebbero o no in una consultazione in generale al sud finirebbe 90-10 o 80-20 come percentuale 80 per l'abrogazione o 90 per l'abrogazione quello che dice occhiuto non lo sto dicendo io il sostegno di Tajani dice Tajani la richiesta è legittima Tajani avete presente Forza Italia insomma il vice premier si allinea al suo presidente e alimenta la dialettica mi piace la dialettica non la polemica la dialettica con gli alleati della Lega insomma su questo avremo da confrontarci ancora a lungo perché ne parleremo e tanto poi durante l'eventuale campagna elettorale per l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata si potrà entrare meglio nel merito di quelli che sono i contenuti l'autonomia in alcuni settori particolarissimi che hanno bisogno come dire di una regia complessiva nazionale che debba poter bilanciare le situazioni tra una regione e l'altra tra il nord e il sud vale a dire sanità intanto e anche istruzione tutto questo fa parte diciamo del provvedimento ma tutto questo appunto sarà sottoposto al regime di referendum abrogativo se si raccolgono firme sufficienti o se le regioni che presenteranno la richiesta di referendum saranno cinque per ora sono quattro allora Giovanni proviamo a leggere qualche altra cosa perché siamo in attesa di un contatto che dovrebbe risponderci per quanto riguarda la scaletta beh sì per la verità abbiamo anche cose organizzative e anche interessanti per esempio per quel che riguarda l'organizzazione diciamo l'ordito organizzativo di Bari città il sindaco Leccese ha nominato Elisabetta Vaccarella come vice sindaca metropolitana di Bari una decisione sorpresa quella di Leccese scrive Repubblica Bari presa nel corso del primo consiglio metropolitano da lui presieduto e ci tiene il primo cittadino a premettere che la sua scelta non ha valore politico e va ricondotta a logiche di alternanza di genere ma in realtà è un primo modo per far capire a Marco Lacarra che negli ultimi tempi ha recitato la parte dello zio malmostoso della nuova maggioranza bel termine malmostoso che non ci sarà in riconoscenza nei suoi confronti e che i pesi saranno considerati perché c'è sempre un problema di equilibri che non sono da poco ora su questo ovviamente anche il Corriere del Mezzogiorno torna e torna in particolare sul discorso che ha a che fare con il referendum che torna in aula però mette anche questi 12 volti sono 12 volti sostanzialmente pugliesi le ambizioni della spedizione a Parigi ci sono i 12 pugliesi che saranno ai giochi olimpici e si incomincia con i giochi olimpici oggi c'è la cerimonia di inaugurazione con tanta preoccupazione veramente tanta preoccupazione un dispiego di forza dell'ordine veramente eccezionale e praticamente è un interforze di quella mondiale proprio praticamente un interforze tra polizie e intelligenze di quasi tutto il mondo quasi tutto il mondo e su questo dovrebbe valere il principio che è stato quello invocato anche da Mattarella presidente della Repubblica italiana che è andata a salutare gli atleti tra l'altro ieri il principio che ha anche invocato il Papa della tregua olimpica se non vi ricordo che quando si tenevano i giochi ad Olimpia che è praticamente una cittadina molto tenuta molto bene tra l'altro nel Peloponneso i giochi ad Olimpia c'era tregua militare cioè non si combattevano le guerre c'era si fermava tutto e si giocava perché erano i giochi dedicati a Zeus olimpico e speriamo che questo almeno serva a fermare determinate situazioni e dall'Olimpo di Zeus Giovanni andiamo alla città di Matera in particolare nel quartiere della Martella perché esprimono malcontento alcuni cittadini attraverso il comitato Cuaroni rispetto ai lavori in corso che prevedono l'installazione di un'antenna per radio telecomunicazioni cellulari sono indignati e delusi dalle risposte insufficienti delle istituzioni dicono il comune dovrebbe adottare un piano antenne per regolare e minimizzare l'elettromagnetismo delle antenne telefoniche l'emendamento dicono ancora in chiusura del decreto coesione del 27 giugno che permette e deroga i regolamenti comunali per la localizzazione degli impianti non è applicabile al nostro caso essendo la nostra richiesta antecedente ne parliamo con Eustacchio Cuscianno presidente del comitato Cuaroni che intanto saluto e ringrazio ben trovato buongiorno buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità ecco perché intanto siete così preoccupati per questa antenna di che antenna si tratta? la comunità materana dopo una annosa e nota questione dibattuta nel gennaio 2024 addirittura con un consiglio comunale aperto ed un ricorso al TAR era già stata abbastanza evidente sulla gestione delle antenne 5G o comunque di telecomunicazione più in generale è in questo solco che la comunità di Lamartella pervenuta a un'istanza di un privato all'installazione di un'antenna nel borgo storico della nostra cittadina ha trasmesso formalmente un'istanza di opposizione in merito alla realizzazione e quindi all'autorizzazione per l'attività in questione considerando anche il tessuto urbano e quindi anche la dotazione del tessuto urbano denominato appunto T1 in cui il borgo Lamartella rientra quindi anche per comprendermi il costrutto il dato il comitato di concerto con l'associazione Amici del Borgo ha proposto al comune precedentemente all'erogazione dell'autorizzazione uno stato dell'arte protagonico appunto ha un articolato definizione del dato purtroppo a tutt'oggi in evasa e questo insomma è importante sottolinearlo così come avete sottolineato che serve adottare un piano antenne la Lamartella rientra all'interno di un comune il comune di Matera che ha parrebbe un piano appunto definito un piano antenne che o deve essere necessariamente aggiornato o deve essere adottato de plano ma per permettere soprattutto un'articolazione che va nella direzione di esercitare opportunamente una discrezionalità finalizzata a contemperare gli interessi di salute di paesaggio di ambiente e soprattutto anche di diritti di comunicazione il piano permette di definire determinate articolazioni che non soggiacciono esclusivamente all'interno dei regolamenti urbani ma anche dei diritti che i singoli privati possono avere all'interno delle articolazioni è noto solo prendendo la cronaca locale di questo mese che a Valenza nazionale sia i comuni che i privati cittadini di alcune frazioni di comuni anche più blasonati del nostro quindi con una grande numerosità campionaria hanno vinto il ricorso al TAR contro l'installazione di antenne di questo tipo è chiaro quindi che l'attività fondamentale è comprendere per quale motivo si è ricorso nuovamente un silenzio assenso l'ennesimo silenzio assenso per la nostra comunità materana non permetterà purtroppo nuovamente la comprensione di un articolato all'interno del nostro territorio tant'è vero che in quasi tutti i casi l'amministrazione o aveva espresso un parere o aveva espresso un altro parere quindi un parere positivo o un non luogo a procedere in seguito al quale ovviamente è chiaro che è di battuta l'attività di giurisprudenza nel merito ancora una volta l'ente preposto parrebbe abbia fatto ricorso al silenzio assenso una procedura amministrativa contemperata ma che può riflettere può generare alcune perplessità nell'ambito dell'applicazione delle procedure amministrative in pratica non può valere lo stesso schema autorizzativo valso per via gravina per la stessa tipologia di antenna 5G già tanto criticato non può valere lo stesso schema è rare e umano ma in alcuni casi adottare le medesime azioni potrebbe rifilarsi assolutamente scollante rispetto a una gestione in questo caso di un'intera comunità che è fatto ricorso nuovamente al silenzio assenzio evidenziando quindi una inespressa visione di questa amministrazione e quindi è chiaro che laddove il comune già nel gennaio del 2024 aveva compreso che il proprio ufficio non aveva adottato un parere quindi aveva effettuato il ricorso al tarra di Basilicata si è visto rigettato anche a seguito di una non determinata emissione di parere tecnico quindi è chiaro che la nostra posizione è soprattutto molto perplessa in merito da prima alla non emissione di parere tecnico e in secundi sarà un'azione di un piano antenne che avrebbe potuto tutelare non solo il paesaggio in questo caso ricordiamolo il borgo la martella inserito all'interno del tessuto urbano T1 quindi paragonato a un centro storico ed è giurisprudenza di questa settimana che tutti coloro che ovviamente volevano erigere come ovviamente soggetti privati antenne parificate a questa all'interno del centro storico il tarra ne ha avverso le condizioni considerando che ci sono dei regolamenti non solo urbanistici ma anche legati al centro storico che ne vanno impegnati da un punto di vista giustico oltre che urbanistico ma il piano va anche nella direzione di poter permettere ai singoli privati il diritto di comunicazione evidenziando quindi le aree che possono essere allocate all'interno del perimetro del comune di Matera quindi considerando che la questione è stata assolutamente dibattuta con tutta la comunicazione era ovviamente nota così tanto tale addirittura da evidenziare un consiglio comunale aperto nel gennaio 2024 non si comprende per quale motivo si sia fatto nuovamente ricorso al silenzio assenso e parrebbe che in questo caso il comune di Matera ancora non si sia dotato o comunque non abbia aggiornato laddove lo avesse già avuto il piano in tempo ed è per questo che la comunità chiede a gran voce delle risposte in alternativa non si sta effettuando un'attività di governance correlata ai cittadini l'attuale stato daino dei residenti evidenzia uno scollamento totale e soprattutto una forte rilevante indignazione rispetto al rapporto di fiducia tradito e non più reciproco che in questo caso la comunità in toto in particolar modo quella di Lamartella che è vista ovviamente perpetrata sulle proprie spalle e allora ringraziamo Stacchio Cuccianna per quanto ci ha detto e attendiamo ovviamente le risposte e le novità su questa questione grazie per essere stato con noi grazie ancora a voi grazie buona giornata andiamo in pubblicità e dopo la Basilicata si ritorna in Puglia domato l'incendio che due giorni fa ricordiamo ha devastato 70 ettari di bosco a Baia San Felice una delle zone più attrattive del Gargano riaperto il camping di Baia dei Campi evacuato molto probabile l'origine dolosa dell'incendio il sindaco di Vieste accusa troppi appetiti sulla zona vediamo un piccolo report su quanto accaduto una vicenda che fa ancora parlare ne parlano ancora i giornali vediamo che cosa è accaduto con un report lancio ottimo prossimo se me lo anticipi al primo imbubbio quello che ci sei passato da sopra ce ne sono voluti tre di Canadair con l'ausilio degli elicotteri per domare l'incendio che ha violentato ieri ancora una volta Baia San Felice il paradiso a pochi chilometri da Vieste come un anno fa stesso giorno stesso luogo fiamme appiccate in più punti e 70 ettali di bosco distrutti una lotta incessante di vigili del fuoco protezione civile arif e volontari durata fino a notte il vento ha spinto l'incendio all'ambire Baia dei Campi e il sindaco di Viesti ha disposto l'evacuazione del camping abbiamo scelto di farlo evacuare con largo anticipo anche se il fuoco era un po' distante proprio perché volevamo evitare qualsiasi panico più di 500 gli evacuati una ventina presi dal barcone turistico e portati in una struttura di Vieste oltre 250 accolti a pugno chiuso questa è la visione spettrale del camping evacuato proprio durante le ore caldissime dell'incendio non c'è stata neanche paura perché noi l'abbiamo sgombrato con un largo anticipo quindi evitando il panico evitando qualsiasi situazione scena di apocalittica la procura di Foggia ha aperto un'inchiesta sulla più che probabile origine dolosa dell'incendio riaperta in mattinata la provinciale 53 bloccata ieri all'altezza di Vignanotica ma perché accade tutto questo? ma erano diversi giorni che provavano a piccare fuoco nella zona di Baia San Felicio che è stata anche presa di mira l'anno scorso c'è qualcosa che è di strano sotto in quell'area ci sono evidentemente troppi appetiti su quella zona il giorno dopo la paura l'ennesimo delitto e i danni del Gargano molti turisti evacuati hanno scelto di tornare a Baia dei Campi insomma questo è il piccolo report realizzato da Ciro Dattoli proprio lì a Vieste sul Gargano restano diversi ettari bruciati di questa è una situazione di fatto che è incontrovertibile per questo almeno per il momento poi sicuramente la vegetazione con gli anni riprenderà i suoi spazi resta questa ipotesi di origine dolosa Giovanni si è un'ipotesi che continua a prendere piede nel senso che non è venuta mai meno perché è perché già in passato e proprio nello stesso posto è successo anche già in passato il fatto che tutto a un tratto inesplicabilmente abbia preso fuoco proprio ancora una volta il bosco lì 40 ettari di bosco bruciati prosegue l'inchiesta dalla procura di foggia certa addirittura dice la gazzetta certa la matrice dolosa i vertici chiedono che si creino infrastrutture di sistema per intervenire rapidamente di fronte alle situazioni di pericolo insomma è chiaro che è uno di quegli argomenti che sicuramente tiene banco anche se va tenuto presente che l'emergenza è rientrata definitivamente ormai da 24 ore anche se l'altro giorno a scopo precauzionale circa 600 turisti ospitati in campi e hotel della zona sono stati ospitati in altre strutture alberghiere di Vieste e nella palestra comunale della capitale del turismo pugliese con altre due milioni di presenze oltre due milioni di presenze all'anno quindi voglio dire è uno di quei punti di riferimento proprio della crescita e dello sviluppo del turismo poi va detto ancora che ieri ancora una volta c'è stato come dire un giro di lanci di acqua dei Canadair proprio per favorire l'inizio della bonifica dei luoghi un intervento richiesto dal comandante dei vigili del fuoco di Foggia che ha coordinato tutti i lavori di soccorso insieme alla protezione civile e alle squadre di volontari va detto anche comunque che l'allarme c'è anche perché a Ferragosto la capitanata sarà a secco con agricolture e col diretti dicono aiutateci si cita in un anno 368 milioni di metri cubi in meno di acqua negli invasi pugliesi e lucani e non è la situazione peggiore per quel che riguarda la nazione e il sud in particolare c'è la Sicilia che è in una situazione davvero difficile tant'è che addirittura è previsto il carico di una nave cisterna dalla Calabria di acqua potabile da portare in Sicilia e svuotare poi direttamente nelle autobotti per evitare di avere altri danni danni veramente pazzeschi per quel che riguarda in particolare la stagione turistica per quel che riguarda però ancora il discorso della biodiversità e del turismo va detto che da oggi al 28 luglio ci saranno tre giorni di incontri laboratori e verifica siamo a Manfredonia quindi siamo di nuovo in Capitanata quindi incontri laboratori e verifica dello stato di salute del mare Sipontino e di quello del promontorio garganico la Goletta Verde sbarca nel golfo di Manfredonia focus anche sul centro recupero delle tartarughe e devo dire che anche qui ci sono poi bei fenomeni che danno il senso e dell'attenzione nei riguardi della natura ma anche il senso del fatto che se viene utilizzato il territorio da parte per esempio delle tartarughe in questo caso in alcune zone davvero importanti ovviamente più giù in questo caso vale a dire nel Salento è un discorso che sicuramente testimonia un buon rapporto tra cittadini e natura almeno in alcune zone e questo si è già verificato già in passato ma anche ora si sta verificando di nuovo vale a dire sono state ritrovate sulla spiaggia dai volontari e sono state ovviamente gelosamente custodite e protette uova di tartaruga una sessantina siamo praticamente in Salento qualche uovo sia anche schiuso e quindi qualche tartarughina è nata proprio tra i bagnanti e i volontari salutiamo questo fatto in maniera positiva perché mi sembra un segnale che dà il senso proprio del buono stato di salute nonostante gli incendi di natura dolose in alcune zone della ricettività e delle spiagge sia pugliesi che lucane e poi c'è una notizia Giovanni proprio di questa mattina che non possiamo non dare perché noi trattiamo sempre e spesso l'argomento dopo oltre 14 ore di trattativa al Ministero del Lavoro è stato raggiunto nella notte l'accordo sulla cassa integrazione per i lavoratori Exilva nell'accordo prevediamo che con dicono dalla Fium CGL con il percorso di ripartenza siano garantiti tutta l'occupazione e la continuità salariale con una integrazione dignitosa per le persone che per vivere devono lavorare lo dichiara in una nota Loris Scarpa coordinatore nazionale siderurgia per la Fium CGL sottolineando che nell'accordo c'è un piano di ripartenza che i commissari straordinari dovranno mettere in pratica c'è la tutela occupazionale perché non sono previsti esuberi e soprattutto alla fine di questo percorso ci sarà la possibilità per tutti di rientrare al lavoro ora non so se i giornali già hanno avuto la possibilità di battere questa notizia di dare dell'accordo sono un passo indietro appena un passo indietro però era proprio la fase del pomeriggio di ieri dubbi d'acciaio scrive la gazzetta nel mezzogiorno nel titolo il ministro Urso al capezzale dell'exilva di Taranto sindacati e ditte dell'indotto chiarezza sul futuro ecco qui exilva cassa integrazione scure sugli impianti a Taranto l'incontro ieri al ministero del lavoro per ridurre il numero dei casti integrati ma come abbiamo visto si è trovato l'accordo i sindacati hanno chiesto certezze su integrazioni salariali e futuro a Taranto visto il ricorso all'ammortizzatore sociale seppur ridotto per 4.200 lavoratori va detto che poi ci sono su questo una serie di dubbi che ancora restano i dubbi delle imprese dell'indotto sulla cessione dei crediti perdonate dei crediti alla Sace Confindustria e AIG plaudono l'operato del governo ma temono ulteriori oneri ma anche su questo bisognerà vedere come si svilupperanno non tanto le trattative ma proprio le cose in sé mentre le considerazioni ci sono intanto c'è una considerazione di Nunzio Valentino che scrive sulla gazzetta la fabbrica va completamente ripensata ma i nuovi impianti con il marchio Green richiedono svariati miliardi di investimenti e ci sono pure insomma gli investimenti sia quelli pubblici che i competitori i players privati coloro che vogliono entrare in questo discorso della siderurgia in particolare dell'ex silva ma poi tra l'altro c'è chi invece sottolinea ed è la RSU FIOM CGL Giuseppe D'Ambrosio dice la gestione Morselli del siderurgico è l'invisibile ma costante disastro umano procurato sulla pelle degli operai ma intanto l'accordo e l'intesa si è trovata e si va quindi all'applicazione della cassa integrazione ok Giovanni tra un po' parleremo sicuramente di raccolta differenziata a Molfetta perché c'è un nuovo progetto una nuova campagna in tal senso ma siamo in attesa di parlare con la referente di questo progetto per cui ti chiedo cortesemente di leggere qualche altra notizia beh devo dire che sulla raccolta differenziata proprio qualche giorno fa c'erano queste notizie positive per quel che riguardava la Basilicata nella raccolta del cartone e anche della carta e dell'acciaio insomma ci sono comuni virtuosi comuni che riciclano comuni che riciclano di meno sicuramente tutto questo è un discorso che va tenuto presente bisogna continuare a seguire proprio questo percorso della differenziazione nella raccolta evitare situazioni di difficoltà ma soprattutto bisogna fare in modo che si possa riciclare la plastica e il l'acciaio e tutto quello che è riciclabile immaginate il vetro per esempio che è riciclabile sempre per sempre in eterno e quindi sono scelte importanti che vanno tenute sotto controllo tutto questo significa sicuramente per quel che riguarda carta e cartone poter evitare di avere abbattimenti di ulteriori abbattimenti di alberi per quel che riguarda appunto la produzione della carta la diminuzione è molto importante così come apprendiamo che è altrettanto attenta per quel che riguarda una serie di fatti la Puglia alla diciamo alla riduzione in particolare delle fondi energetiche tradizionali cresce la voglia di fotovoltaico Bari nella top 10 con 8.000 impianti anche questo è un percorso da salutare perché eccolo qui voglia di fotovoltaico Bari nella top 10 8.000 impianti è un primato del sud tra l'altro 30.693 gli impianti il numero totale è quello degli impianti appunto installati nella provincia di Bari unica nel sud nelle prime 10 è tra le province che ha installato più pannelli in un anno secondo Helmexolar bene Giovanni allora chiedo alla regia se siamo nelle condizioni di poterci collegare con la referente di Molfetta per quanto riguarda la raccolta differenziata non ancora Giovanni te tocca leggere qualche altra notizia va beh vi raccontavo prima proprio di questo discorso appunto della voglia di fotovoltaico per la verità va anche detto che ormai esistono progetti per quel che riguarda il fotovoltaico in particolare che permettono addirittura di salvare anche diciamo la superficie agricola al di sotto dei pannelli solari ci sono progetti e brevetti di progetti tra l'altro alcuni conosciutissimi in Puglia di privati che lavorano in questo settore che hanno praticamente sono riusciti a produrre pannelli fotovoltaici non solo ad un'altezza tale che si possa coltivare la terra al di sotto del pannello ma anche con l'orientamento del pannello nei riguardi del sole stesso e quindi arrivano i raggi solari sempre anche al di sotto del pannello in certi momenti è una scelta differente che sicuramente fa fare un salto di qualità e restituisce anche superficie agricola che purtroppo è stata sottratta in passato con il vecchio sistema dei pannelli fotovoltaici restituisce all'agricoltura e alla coltivazione queste superfici ed è un altro sintomo di come si possa lavorare in questo settore evitando di creare problemi in particolare al settore primario ebbene grazie Giovanni e andiamo all'argomento che avevamo annunciato Molfetta lancia la campagna differenziare ripaga per promuovere la raccolta differenziata e ridurre l'atari con nuove regole e incentivi fiscali per chi separa correttamente rifiuti organici l'iniziativa mira ad educare i cittadini e migliorare la sostenibilità ambientale della città ne parliamo con la dottoressa Adele Claudio che è appunto la presidente dell'ASM Molfetta azienda servizi municipalizzati di Molfetta che intanto saluto e ringrazio per la sua disponibilità ben trovata buongiorno qualche piccolo problema nel collegamento e allora Giovanni intanto gli argomenti come dicevamo un argomento difficile questo un argomento difficile quello della raccolta è sempre complicato l'argomento delle telecomunicazioni sia parlarne sia metterla in pratica che non dobbiamo fare vabbè ma ci sono anche altri discorsi che riguardano in particolare Puglia e Basilicata uno che riguarda la Puglia per esempio è quello che riguarda il fatto dei lidi deserti Gallipoli si è lamentata in maniera fortissima perché i parcheggi sono lontani dalle spiagge ora dopo i lidi deserti le auto in spiaggia Gallipoli da incubo ingorgo sulla strada parco aggirati i divieti insomma dai lidi spopolati al far west la strada green senza pace ecco le code di auto insabbiate addirittura a Gallipoli meno controlli per attrarre i vacanzieri via i divieti di transito ma intanto è ancora più complicato e poi ancora vediamo sul discorso del rapporto tra barche e bagnanti c'è un patto nel porto di Tricase malgrado lo stop alla balneazione l'acqua cristallina mette tutti d'accordo quindi di fatto si va ma forse abbiamo notizie per questo riguarda questo argomento che volevamo trattare prima e allora ripeto la Molfetta lancia la campagna differenziale ripaga per promuovere la raccolta differenziale e ridurre l'Atari con nuove regole incentivi fescali per chi separa correttamente i rifiuti organici un'iniziativa che mira ad educare i cittadini a migliorare la sostenibilità ambientale della città ne parliamo con la dottoressa Adele Claudio presidente dell'ASMA Molfetta l'azienda di servizi municipalizzati appunto di Molfetta che intanto saluto e ringrazio per la sua disponibilità ben trovata salve sono l'avvocato Adele Claudio presidente della municipalizzata ASM di Molfetta a vostra disposizione buongiorno allora quali sono gli obiettivi principali di questa campagna differenziare ripaga allora gli obiettivi principali di questa campagna sono essenzialmente la sensazione di un presumo condivisa con i cittadini alla raccolta differenziata abbiamo assistito ad un progressivo calo degli indici della raccolta differenziata abbiamo visto dei cittadini piuttosto stanchi di continuare appunto ad usare questo tipo di raccolta dei rifiuti abbiamo optato per una vasta campagna di sensibilizzazione del pubblico nel dirimere quelli che sono i problemi relativi alla campagna differenziata non diciamo nascondo che ci sono dei problemi cioè i cittadini dopo anni di un continuo porta a porta il mastello che deve essere praticamente un po' sportato giù la raccolta che deve essere espletata dai reoperatori ASM sono un po' stanchi quindi in relazione a quello che è l'estensione al divulgarsi di pratiche anomale e contralegem di abbandono dei rifiuti per strada nelle zone di campagna e addirittura anche nelle spiagge abbiamo con le istituzioni optato verso questa vasta campagna di sensibilizzazione del cittadino e quindi fare la raccolta differenziata nel migliore dei modi seguendo quelle che sono le normative ad hoc tenendo a conto che c'è stato un aggravamento che addirittura è ipotizzato una fattispecie tipica di reato che nei confronti del soggetto che abbandona i rifiuti abbiamo cercato di tirare le somme e quindi optare per una pubblicità del come fare la raccolta differenziata e quindi parliamo di quali sono le principali novità introdotte dal nuovo regolamento per la raccolta le principali novità sono innanzitutto il peso dell'umido noi abbiamo tre isole ecologiche abbiamo intenzione di addirittura di giungere alla configurazione di altre isole ecologiche ad esempio una fattispecie di isola che piacerebbe moltissimo a questo presidente è l'isola itinerante cioè quella che praticamente gira per la città soprattutto raccogliendo quelle che sono le esigenze di cittadini anziani di cittadini disabili di soggetti che non sono nelle condizioni di recarsi personalmente all'isola quindi mentre precedentemente era pesato solo vetro plastica e carta ora viene praticamente pesato da noi e questo è un unicum a livello regionale anche l'umido tutto questo si trasforma in un abbattimento dell'indice dell'Atari quindi una misura vantaggiosissima scelta e adottata nei confronti dei cittadini che va poi a praticamente a calibrare quelli che sono i pesi della tassa sui rifiuti si pesa l'umido si ha una diminuzione in relazione a quello che è il peso raccolto su un'incidenza notevole su quella che è l'Atari che il cittadino singolo dovrebbe pagare questo è un unicum come funziona questo sistema di pesatura dei rifiuti organici nelle isole ecologiche che intendete mettere in campo allora allo Stato lo stanno già mettendo in campo e praticamente vanno lì i cittadini con la busta con le solite buste di rifiuti pesano l'operatore ecologico applica quelle che sono le tariffe numeriche e poi a bolletta emanata si troverà il cittadino si troverà la netta diminuzione della tassa da pagare in relazione a quello che è stato il peso mettiamo dell'organico raccolto dall'operatore dell'isola ecologica è tutto computerizzato tutto terminalizzato non c'è possibilità di errare non c'è possibilità di fare di elargire benefici a soggetti tutto regolarmente diciamo viene tutto regolarmente eseguito un'altra novità è chiaramente l'aumento delle sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti che abbandonano o che non fanno una corretta raccolta differenziata abbiamo aumentato la sanzione da 100 euro a 250 questo soprattutto per dare un input anche alle grosse realtà commerciali di espletare una raccolta differenziata ammirata e soprattutto fatta bene perché questo potrebbe chiaramente aumentare l'indice della raccolta differenziata darci la possibilità di non andare non sforare con appunto con ecobonus cioè non andare oltre il 65% al di sopra del 65% dell'indice per chiudere avvocato come possono i cittadini ottenere maggiori informazioni sulle nuove regole e sui benefici della raccolta differenziata in modo da aumentare la loro consapevolezza ed essere sempre più spronati ad effettuarla allora noi abbiamo innanzitutto adottato un nuovo sito molto più completo dell'ASM che si trova ovunque e dovunque dove è praticamente messo e raccolto il regolamento che noi abbiamo approvato il nuovo regolamento sulla raccolta dei rifiuti differenziata molto contiamo su questa campagna pubblicitaria che diciamo non sarà al di là dei media al di là dei social noi abbiamo bisogno anche di un contatto vicino con il cuore dei cittadini quindi saremo vicini ai cittadini nelle parrocchie nelle scuole negli associazioni quindi questa la divulgazione del messaggio che deve essere condiviso dai cittadini di fare una raccolta differenziata precisa puntuale che ha come diciamo input soprattutto la tutela dell'ambiente la tutela della salute e perché no anche la tutela delle tasche dei cittadini questo è quello che noi appunto ci auguriamo allora io ringrazio l'avvocato Adele Claudio presidente dell'ASMO Molfetta per quanto ci ha detto per averci illustrato questo bel progetto in bocca al lupo grazie mille grazie buona giornata a voi buona giornata a lei allora chiedo alla regia se andiamo in pubblicità direttamente ok perfetto la pubblicità e poi siamo di nuovo qui rieccoci ancora qui siamo in Basilicata in questo caso andiamo subito a Pisticci e salutiamo subito il sindaco di Pisticci Domenico Albano ben trovato buongiorno buongiorno a tutti ecco tornano gli appuntamenti per l'ottava edizione del festival l'attaccariato organizzato dall'associazione Enotria Felix che animerà Pisticci con giostre medievale artisti di strada e concerti fino al 28 di luglio con la serata finale il 3 di agosto insomma un'estate pisticcese che sarà davvero ai livelli che ci ha abituati sì sì è un bel cartellone sono tanti eventi quelli relativi all'Enotria Felix sono molto molto importanti domani c'è la giostre della Cavallara un nuovo evento che vede diciamo in competizione i sei paesi delle sei comunità della fascia ionica domenica ci sarà il corteo storico il musical Piazza La Salsa in certo qual modo l'estate è iniziata gli eventi sono diciamo ci saranno tanti vedo sullo sfondo diciamo lo sbarco dei Turchi che c'è stato il 21 a Lido 48 a Pisticci e finirà il 3 con uno degli insigni artisti del violino il nostro quarto a Piazza La Salsa quindi questo diciamo è solamente l'anticipo di quella che sarà l'estate pisticcese che coinvolge manifestazioni sia a Pisticci Centro e anche a Marconia quindi ci saranno tanti tantissimi eventi e si avrà la possibilità di poterli apprezzare quest'anno abbiamo pure fatto qualcosa in più per poter fare in modo che tutta la comunità potesse diciamo in certo qualun modo a vedere insomma a usufruire di tutta questa bellezza di spettacoli abbiamo messo insomma delle corse di trasporto locale che vada al mare a Pisticci e Pisticci Scavo per poter fare in modo che sia i cittadini sia i turisti potessero raggiungere insomma la Pisticci Centro e Marconia e quindi delizziarsi con questi eventi certamente mi tolgo una curiosità sindaco taccareata che cosa significa la taccareata diciamo è un ballo diciamo particolare diciamo è qualcosa di particolare che rievoca quelle che sono diciamo le tradizioni storiche e quindi diciamo ogni anno c'è questa diciamo rivisitazione e quindi c'è questo spettacolo però diciamo la invito a venire qui e a diciamo a vedere godere di questo spettacolo oppure per rendersi conto di quello che è quello che insomma le emozioni che porta a prendere consapevolezza insomma di quello che è questo spettacolo se volessimo dire qual è la principale novità di quest'anno che cosa indicheremmo come novità principale della taccareata di quest'anno pisticcese le novità cioè ogni anno si alza la sticella si alza diciamo il livello e tutto diciamo quelli che erano diciamo prima degli spettacoli che avevano diciamo uno spessore diciamo minimale adesso sono aumentati quindi c'è maggiore competitività oppure per quanto riguarda la sfilata c'è una certa ricercatezza dei costumi e c'è un certo ricercare proprio la storia e quindi in certo qual modo raccontare quello che diciamo questa storia che a molti diciamo è sconosciuta anche alla nostra comunità quindi piano piano c'è questa divulgazione e una informazione ancora maggiore per poter far sì che tutti conoscono quelle che sono diciamo le origini le radici e quella che è la vecchia storia quindi ci sono poi stati anche altri eventi c'è stato diciamo l'altro giorno lo spettacolo con Derigo Pesce presentazione di libri quindi ci sono tanti tanti eventi che sono frammisti a ricordi e a vocazioni storiche a cultura c'è un po' di tutto certo e allora ricordiamo intanto questa sera venerdì 26 luglio non perdete la tradizionale cena barocca nel rione Terravecchia accompagnata da un concerto di musica antica poi sabato la giostra della Cavallara vedrà sei cavalieri sfidarsi nella Corsa degli Anelli seguita da un corteo di oltre 100 figuranti fino a Piazza La Salsa dove si terrà il Palio delle Torri e lo spettacolo del Giullar Cortese e domenica 28 luglio torna il corteo storico per le vie del paese e a seguire il musical i Promessi Sposi con la regia di Graziano Galatone in piazza sempre La Salsa e poi la tacariata si chiuderà in musica come abbiamo detto sabato 3 agosto con il concerto di Alessandro IV Ringrazio il sindaco di Pisticci Domenico Albano per averci parlato di questo bel evento che anima uno dei comuni più significativi della provincia di Matera che è quello di Pisticci Buona giornata a tutti grazie grazie sindaco Giovanni parlando di comuni viene subito la necessità di completare una serie di cose che hanno a che fare con alcune realtà amministrative di Puglia e di Basilicata intanto iniziamo con la Puglia perché è stata completata la formazione della giunta comunale di Gravina sostituiti di due assessori di missionari Lorusso e Burdi entrano nella giunta La Greca e quindi è completata la formazione così come è completata la formazione della giunta Monca presentata a potenza dal sindaco Telesca e a questo punto si è andati avanti perché dice il quotidiano del sud pace fatta in maggioranza e si è risolto anche questo e quindi Telesca rifinisce la giunta sono Giuzio e Grieco gli ultimi due assessori nominati dal neosindaco ricomposto lo strappo a sinistra della maggioranza con la Basilicata possibile e quindi sostanzialmente è sotto questo aspetto la giunta può lavorare a pieno ritmo perché tutte le deleghe sono state attribuite questo riguarda il capoluogo regionale lucano il comune del capoluogo regionale lucano si lavora in questo senso ma rimanendo un attimo collegati al discorso lucano il titolo del quotidiano questa mattina apre facendo riferimento a potenza potenza sempre più poveri e precari aumentano le persone indigenti che chiedono di essere aiutate dai centri di assistenza il 43% è nuovo eccolo qui Caritas fotografa un territorio divorato da precarietà e povertà è quello che leggiamo dal quotidiano nella sola potenza Caritas ha accolto 861 famiglie incontrando 2000 persone e povertà e basso capitale formativo esiste anche un nesso in questo senso la piaga dell'istruzione quindi crescono le richieste dei diplomati il problema sempre più trasversale insomma è una situazione che preoccupa ma non è l'unica situazione che preoccupa perché questa è quella diciamo dell'aridità di tipo sociale ed economico ma c'è quella dell'aridità effettiva che ha a che fare con un problema che riguarda gli invasi lucani manca l'acqua a cui muore tutto lo dice la CIA agricoltori a potenza in materia contro gli ingiustificati ritardi dicono loro della regione manca l'acqua a cui muore tutto al rischio totale sarebbero 3500 404 mila ettari di produzioni orticole e questo ovviamente è un altro problema serissimo che come già vi abbiamo detto riguarda un po' tutta quanta la nazione perché vi dicevo prima della Sicilia ma anche la Sardegna a secco gli invasi sono al 57% quindi immaginate come non sia solo un problema a puro lucano il problema della mancanza d'acqua ma riguarda un po' tutti quanti noi e sotto questo aspetto è chiaro che bisognerà trovare una serie di percorsi differenti perché se no Laurenzana che resta senza acqua siamo in un comune della montagna potentina il sindaco chiede interventi immediati per la riparazione delle tante rotture i lubinetti rimasti completamente a secco otto interruzioni in due settimane finirà che avremo questo fenomeno sempre e costantemente poi invece bisogna trovare il sistema per fare sistema intorno all'acqua e fare in modo da non sprecarla da un lato ma neanche da trovare soluzioni intelligenti per poterla conservare per quel che riguarda poi invece in particolare il discorso che ha a che fare con abbiamo sentito le proteste dei cittadini materani riguardavano un'antenna in particolare ma c'è anche un altro tipo di protesta non piace ai cittadini di un rione che è nato con la legge del risteramento sassi il rione la nera che ormai è un rione quasi centrale della città rispetto al fatto che sarà messa lì impiantata la diciamo il contenitore a forma di veliero dove ci saranno i resti della famosa balena giuliana la balena giuliana che è un fossile di milioni di anni fa ritrovato appunto nella diga di san giuliano l'invaso è quello che appunto garantisce anche irrigazione all'agricoltura non togliamo il parco ai cittadini dice intanto il sindaco ci sarà un altro incontro con i residenti nessun albero sarà tagliato quindi sotto questo aspetto dice anche il sindaco siamo aperti al confronto e devo dire che anche il discorso di la martella dell'antenna dopo via gravina adesso l'antenna incombe sulla martella e quindi se ne parla e continua ad esserci ancora attenzione mentre un caso particolare che non si riesce ancora a comprendere ancora silenzio sul caso di Barbara siamo a Rotondella non è ancora risolta la vicenda della disabile che si è trasferita da Matera a Rotondella non riceve ancora l'assegno per la disabilità e non c'è traccia dell'assistenza domiciliare quello che ci viene come indicazione in particolare dal quotidiano va detto poi che invece per quel che riguarda le tante cronache le tante cronache ancora nazionali a questo punto andiamo subito a vedere qual è la situazione iniziamo con il Corriere della Sera via ai giochi Parigi blindata l'abbiamo accennato prima calcolate 65.000 genti in assetto di guerra l'allarme di Israele tra l'altro piano l'attacco contro di noi calcolate che Israele durante le Olimpiadi ha già subito situazioni di questo tipo e poi ancora Parigi è appunto blindata oggi si incomincia ma va anche detto che non c'è solo questo c'è anche l'attacco di Trump che dice Biden cacciato con un golpe insulti fake news e sessismo contro Kamala Harris insomma la polemica si accende ma tornando intanto al discorso con per Parigi Parigi si consegna all'Olimpiade diffusa tra sogno e rabbia Mattarella show vola con Tamberi e poi canta l'inno agli azzurri avete l'affetto di tutta Italia e vi dicevo prima Parigi rassicura gli israeliani non ci risultano cosa del genere sapete tra l'altro che c'è un discorso che ha a che fare con la presenza anche di Netanyahu che dovrebbe vedere se non sbaglio oggi anche Donald Trump in Amè e già negli Stati Uniti da due giorni e ci sono state anche manifestazioni di protesta ma anche questo si sta cercando di arrivare alla famosa pace olimpica per poter arrivare ad una sospensione del conflitto anche lì intanto Meloni si sta attrezzando per la visita in Cina alla Presidente del Consiglio prima visita in Cina missione dopo lo strappo sulla Via della Seta guerra Mosca-Chief il confronto con Xi Jinping dossier economici e conflitti Meloni appunto si muove verso la Cina Kamala Harris parte all'attacco il partito è con lei siamo agli internazionali e non solo quelli o di tennis o dello sport manca solo Obama ma pare stia chiudendo anche questo accolto e Donald accusa contro Joe i Dem hanno fatto un colpo e sì gli piaceva avere contro Joe Biden ma questo non è sempre possibile e devo dire che poi la Casa Bianca ha anche annunciato che è vicino l'accordo su Gaza Netanyahu promette di lavorare insieme ce l'auguriamo tutti speriamo che questo possa succedere bene Giovanni possiamo fare la vignetta andiamo già alla vignetta e beh ha detto che la 9 e un quarto vuole e sì e no non mi ero reso conto mi ero infervorato finalmente potevo parlare direttamente a filo dritto allora a questo punto c'è la vignetta di Giannelli che è simpatica perché è giocata su Trump Kamala Harris con ovviamente Kamala la pronuncia è questa con l'accento sulla prima e però entra in ballo anche il principe Antonio De Curtis in arte totò per via di una sua famosissima canzone e allora c'è Trump che va al contrattacco e allora si vede Trump con il suo ciuffo biondo che indica la Harris e che canta femmina tu si Kamala femmina Kamala femmina e gioca su questo questa questa particolare espressione è proprio Giannelli ancora una volta confermandosi uno dei migliori nell'ironia nella capacità di saper cogliere questi particolari alla prossima grazie Giovanni e allora noi andiamo subito ad un collegamento perché ci sta già attendendo Donato Popolizio organizzatore dell'Altamura in festival ben trovato buongiorno buongiorno a voi e allora ci descrive e ci faccia entrare subito nel mood di questo festival che insomma prevede diversi spettacoli estivi sì siamo quasi alla metà del cartellone della rassegna voluta dall'amministrazione comunale di Altamura e realizzata dalla PS Management in questi giorni ci saranno diversi appuntamenti di rilievo con artisti che non hanno bisogno di presentazioni quali gli attori comici Pampers e Paolo Cagliazzo poi successivamente avremo altri appuntamenti dedicati al teatro alla musica al divertimento insomma almeno fino ai primi giorni di settembre ci saranno ancora diversi eventi che potranno far divertire gli altamurani e non perché la nostra rassegna almeno vedendo anche gli appuntamenti precedenti ha visto la presenza anche di gente che è venuta a trovarci dai paesi limitrofi qual è il fil rouge che collega questi eventi Popolizio? Praticamente gli eventi sono di diversa natura così come è espressamente chiesto per volontà dell'amministrazione comunale e si è voluto innanzitutto trovare una location alternativa che è quella di piazza Don Tonino Bello una piazza che negli anni non ha avuto grosse possibilità di ospitare eventi quindi il loro intento è stato quello di riqualificare questo luogo dando la possibilità un po' a tutti bambini anziani un po' tutti insomma di vivere quest'estate in serenità offrendo spettacoli di buona qualità voi avete iniziato esattamente l'8 luglio il prossimo spettacolo il 28 come ricordava lei con il cabaret con i pampers in non facciamo tardi quali sono stati i principali eventi che hanno caratterizzato fino ad ora il vostro cartellone beh sinceramente un po' tutti quasi tutti gli spettacoli hanno riscosso un grosso successo ovviamente l'appuntamento di punta era quello del concerto dei nomadi del 15 luglio ma anche gli spettacoli di cabaret di Vincenzo Comunale di Max Cavallari degli Scemi Freddi lo spettacolo per i bambini degli Enjoy Kids quasi tutti gli spettacoli hanno riscosso un grosso successo ovviamente questo ci fa enormemente piacere perché tutti gli sforzi gli sforzi organizzativi che stiamo sopportando grazie alla grande presenza di pubblico insomma ci rende molto felici ecco e poi diciamo nei prossimi giorni avremo una una terna di appuntamenti cabaret i pampers l'abbiamo già detto Paolo Cagliazzi in Atterroni si nasce e Dio lo nacqui modestamente e il 30 luglio il concerto live pop con musica d'autore con Cashmit che è la tribute band di Cesare Cremonini cosa ci può dire di questi tre artisti? diciamo sia i pampers che Paolo Cagliazzi non hanno bisogno di presentazioni sono artisti nazionali che abbiamo visto sia al cinema soprattutto i pampers e in tv sulle reti di Mediaset su Zellig Colorado e Made in Sud la presenza di Paolo Cagliazzo è stata costante quindi sicuramente questi due appuntamenti avranno una grossa affluenza di pubblico io consiglio anche di seguire la cover di Cremonini un gruppo del nord barese che è molto bravo che ci darà la possibilità di far ascoltare i brani di Cessore Cremonini uno dei più grandi cantautori italiani bene io intanto la ringrazio per essere stato con noi e quindi ci diamo appuntamento ai prossimi le prossime tappe di questo bello spettacolo che durerà fino insomma ai primi di settembre che caratterizza l'estate altamurana grazie per essere stato con noi grazie a voi e grazie per l'attenzione che ci state insomma dando per seguire i nostri appuntamenti grazie grazie di cuore grazie a lei e rimaniamo ad Altamura con lo storytelling e la tecnologia che raccontano i claustri claustri altamurane interattivi un progetto che fonde la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali con l'applicazione della tecnologia e in corso ad Altamura e da come protagoniste le caratteristiche piazzette del centro storico che prendono vita attraverso lo storytelling ed una guida virtuale su luoghi leggende e modi di dire un'esperienza immersiva per visitatori ma anche per cittadini turisti a casa propria il progetto è frutto di una partnership che vede realtà del territorio fra cui Altanet Archia PS Giano Studio Caraltamura Io ti voglio raccontare e ABMC Archivio Biblioteca Museo Civico Il progetto nasce sull'iniziativa di una società privata della Altanet a fronte di un bando TOC del Ministero dei Beni Culturali TOC sta per Transizione Organismi Culturali e Creativi e per cui siamo partiti con questo progetto a settembre scorso per la realizzazione di una piattaforma informatica in grado di far interagire il turista con i luoghi fisici dei claustri dei claustri di Altamura ricordo che in Altamura ci sono circa 80 claustri e noi ne abbiamo attenzionati circa una decina Come cambia la fruibilità dei luoghi attraverso le nuove tecnologie? L'innovazione del progetto è nella interattività del claustro con il turista o meglio la geolocalizzazione del turista fa sì che possa fruire di determinati contenuti se e solo se si ritrova nell'area del claustro per un raggio di 10-15 metri a seconda dell'impostazione che abbiamo dato su quel claustro quindi c'è questa interattività che solo arrivando in quel determinato posto quindi veicolando un flusso turistico specifico su quel posto si possa fruire di determinati contenuti culturali è prevista anche una raccolta dati nell'utilizzo di questa app sì è fondamentale una raccolta dati che arriva direttamente dall'utilizzo delle app nei vari claustri raccolta dati che alimenta una dashboard o un cruscotto decisionale di supporto alle decisioni diciamo per i gestori mi lasci dire i gestori di tematiche pubbliche oppure di chi si occupa del turismo quindi numero di accessi numero di download dei vari contenuti multimediali ma soprattutto c'è anche una raccolta di feedback per gli utenti registrati per quanto riguarda la diciamo l'analisi dell'uso dei claustri e del progetto in sé per sé oltre a quella che è la parte diciamo tradizionale quindi la storia un po' del claustro l'architettura del claustro c'è l'effetto abbiamo chiamato l'effetto wow cioè l'effetto sorpresa e spiegabile forse meglio con un esempio trattando un claustro il tradimento l'effetto sorpresa è perché claustro il radimento perché si chiama in quella maniera nonostante oramai è universalmente accettato che non c'è stato nessun tradimento a parte degli altamurani però l'effetto c'è claustro il tradimento perché si presume che una donna una certa agatatragna abbia tradito i suoi concittadini permettendo l'ingresso all'interno delle mure cittadine di parte dell'esercito cardinale ruffo e quindi da questo terminò l'assedio e ci fu la presa praticamente di altamura con tutte le conseguenze effetto wow che viene raccontato da un omino virtuale in pochi secondi e poi a questo abbiamo aggiunto una rubrica particolare che è quella della vita nel claustro cioè come si svolgeva la vita all'interno del claustro ci sono delle sitcom delle videoclip di pochi minuti con personaggi con abbigliamenti del tempo con oggetti di uso del tempo facendo vedere come si viveva in quel periodo e abbiamo cercato di cucire addosso ad ogni claustro una situazione particolare partendo da un elemento tipico di quel claustro dall'unico di quel claustro come si concilia lo storytelling luoghi e nuove tecnologie allora abbiamo usato rigorosamente il dialetto del periodo quindi il dialetto degli anni 50 alcuni termini sono un poco fruibili anche da parte degli altamorani stessi però ci abbiamo messo i sottotitoli in italiano e in inglese per cui sarà fruibile da parte di tutti quanti però sono rigorosamente in dialetto altamurano la volontà di preservare la lingua madre il dialetto le particolarità dei termini antichi allora siamo purtroppo consci che probabilmente questa è l'unica generazione che attingerà ancora ai proverbi ai modi di dire perché lo abbiamo recepito dai nostri nonni dai nostri genitori però non abbiamo saputo trasmetterla nella maniera adeguata ai nostri figli un po' per tutte le situazioni circostanti internet eccetera in questa maniera ecco speriamo di conservare qualcosa conservare un po' la memoria del nostro paese ebbene è tutto per questa nostra edizione di TRM Live Special l'appuntamento torna come di consueto a domani sabato sabato domani 27 di luglio grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per la visione